Ciao, io sono Milo. E io sono Tony. E lei che sta dietro la... E' una cosa importante. Miei cari e smarriti abitanti di questo pianeta, alla continua ricerca di un non luogo dove riporre i vostri scheletri inutili... Avete mai preso in considerazione l'idea di vivere in un teatro? No? Strano. Le persone d'Estror se vivono in media dai 3 ai 5 anni in più rispetto ai mancini. Anche questo è strano. Al di là della mano che preferisci, l'importante è che tu sia una persona... Spirituale. Di spirito. Ricca. Di spirito. E che tu abbia... 100 euro al mese. E letto almeno una volta l'oroscopo di Bresley. Se anche tu sei come noi... E anche no. Vieni a vivere dai fabbri. Potrai stendere i tuoi panni sull'americana. Giocare a filetto con la polvere del palcoscenico. Avere una quinta tutta tua. Cambiarti la calzamaglia nel camerino. Dai un altro senso ad un teatro abbandonato. Vivilo. Sipario. Questo video si autodistruggerà entro 5 secondi. Come si spegne? Così. Sipario. Sipario. Grazie a tutti.